Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Il video comunale questa sera di Fanno Caldo sul tema del digestore con i malumori della maggioranza Tre ponti, prigioniere del traffico pesante per i lavori su via dell'aeroporto, l'appello dei residenti Presentato il magico Natale di Fossombrone che prenderà il via l'8 dicembre Buonasera cari telespettatori di Fanno TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia E allora partiamo da dove ci eravamo lasciati ieri per quanto riguarda l'incendio devastante in quell'azienda agricola a Ghilardino Perché è ancora un sorvegliato speciale il sito dove è divampato l'incendio l'altra notte nell'azienda agricola in località Ghilardino Dove sono stati distrutti 10.000 quintali di paglia Anche se le fasi critiche della rogo nella giornata di ieri sono state controllate dalle squadre dei vigili del fuoco Data l'enorme quantità di materiale andato a fuoco però i cumuli sono ancora fumanti, i cumuli di paglia E sono guardati a vista dai pompieri con un mezzo sempre pronto a intervenire anche durante la notte scorsa In caso di ripresa delle fiamme Cosa che è avvenuta la loro presenza, la presenza dei vigili del fuoco anche durante la giornata di oggi E come c'è stato riferito dal comando provinciale di Pesaro L'osservazione del rogo avverrà anche questa notte con squadre provenienti da Cagli e da Pesaro Fino al completo esauramento degli ultimi focolai resistenti Quindi l'osservazione avverrà sempre fino a quando non sarà tutto finito Come è avvenuto anche in altri incendi sempre di questo tipo e che vi abbiamo documentato con le nostre immagini Bene, adesso lo avete sentito nei titoli, andiamo nella residenza comunale Praticamente nella sala del consiglio comunale dove si tiene un consiglio abbastanza caldo Perché il tema perno della serata è il digestore A seguire i lavori per noi c'è Francesco Salvago Che adesso ci aggiorna proprio su questo inizio di seduta Allora Francesco che cosa è successo? Sì, prendiamo la linea dall'esterno della sala del consiglio del comune di Fanno Come anticipato dallo studio il tema del digestore è un tema molto caldo in città A prendere parte di questa prima riunione all'interno della sala Vari partiti politici, una sala aperta anche questa sera alla cittadinanza E intanto possiamo appunto annunciare che il consiglio appunto è stato formato per un'interpellanza Una mozione che la Lega ha presentato con il suo capogruppo Per impedire appunto l'impianto industriale del digestore anerobico nella zona di Bellocchi e Falcineto Un'interpellanza non soltanto della Lega ma ha intervenuto anche il capogruppo Ruggeri del Movimento 5 Stelle Nel quale ribadisce ulteriormente che è stata presentata un'interrogazione molto imbarazzante della situazione Ribadisce appunto che Reginelli ha avuto un bonus per aver portato avanti il progetto Il Movimento 5 Stelle si interroga come sia potuto andare avanti il progetto del digestore Con il caos che si sta creando all'interno sia della sala del consiglio ma anche nella città con i cittadini Inoltre Seri ha risposto alle domande che la Ruggeri ha suggerito durante il consiglio Seri, il primo cittadino, ha ribadito il concetto che ritiene che la realizzazione della struttura Deve essere realizzata con altre realtà del territorio Qui si riferisce a marche multiservizi Bisogna fare uno studio di fattibilità da parte di ASET La Ruggeri poi ha risposto quindi alle dichiarazioni di Seri Chiedendo più informazioni maggiori sia sulla grandezza dell'impianto Per quanto riguarda l'ingresso di marche multiservizi Sembra che ASET possa farsi carico della gestione economica dell'investimento E che non ci debba essere un'altra ente locale a fare da supporto E inoltre ribadisce il concetto che il Movimento 5 Stelle ha ribadito più volte Anche durante la loro campagna elettorale Che il sito appunto secondo loro più agevole per installare il digestore è quello di Monteschiantello Ma non è un'idea partita soltanto dal Movimento Ma era stata presentata appunto negli atti del progetto Poi è intervenuto il capogruppo della Lega Ser Filippi Dove appunto ha ribadito che ancora non sono stati visti degli atti appunto concreti sul progetto Questa mozione è stata presentata perché il sindaco aveva detto ai cittadini Durante la sua campagna elettorale che non avrebbe installato il digestore a Bellocchi e Falcineto Secondo Ser Filippi quindi il sindaco Seri non ha mantenuto le promesse fatte appunto ai cittadini La Lega vuole bloccare quindi definitivamente la realizzazione del maxi impianto Nelle zone di Bellocchi e Falcineto E dunque adesso si attendono insomma quale sarà la votazione che è il risultato che verrà fuori da questo Consiglio Comunale Il Consiglio attualmente quindi è ancora in corso Quindi noi vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio Ripristinate ufficialmente le fermate del Frecciarossa a Pesaro Nel collegamento su Milano delle 6.20 e delle 20.14 Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Andrea Biancani Per l'interessamento immediato sulla vicenda Sono orari fondamentali per chi va e viene da Milano in giornata Una buona notizia Lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Postando su Facebook nei giorni scorsi Il primo cittadino aveva scritto a Rete Ferroviaria Italiana E oggi rende nota anche la lettera di risposta Firmata dall'amministratore delegato Maurizio Gentile In riferimento alla vostra nota del 25 novembre Si legge nel testo della risposta Si precisa che la fermata di Pesaro per i treni 9802 e 9811 Come richiesto da Trenitalia nel mese di ottobre È stata reinserita e dovrebbe ora essere anche visibile a breve Nei sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria Mondo del giornalismo in lutto Si piange la scomparsa di Giuseppe Binotti Giornalista e storico collaboratore del Corriere Adriatico Ha seguito per anni le squadre della provincia pesarese Pubblicista dal 1983 La sua passione è sempre stata lo sport Sue le cronache calcistiche della vis Pesaro Ma Binotti si è occupato anche della vita politica locale Da Pergola a Marotta dove viveva Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 4 dicembre È morto questa mattina all'ospedale di Fano Dove era ricoverato da sabato in seguito ad un malore Lascia la moglie, un fratello e una sorella Il funerale si svolgerà sabato a Marotta Le condaglianze alla famiglia anche da parte di tutta la redazione di Fano TV Cambiamo tono di notizia Dopo la nuova piscina in fase di realizzazione È il nuovo palazzetto dello sport L'ambizioso progetto di infrastruttura sportiva della città E nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha visitato alcuni impianti sportivi Che potrebbero ispirare il nuovo progetto del Palace di Fano Vediamo Abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro fatto da altri gestori Ed altre amministrazioni sul tema dei palazzetti dello sport E dunque quando ci si confronta in un certo modo con gli amministratori Come abbiamo fatto a Trento Oppure con i gestori come abbiamo fatto sia a Riccione che a Faenza È sicuramente una cosa molto positiva La situazione è che noi abbiamo instaurato Istituito questo tavolo tecnico In cui abbiamo invitato anche persone esterne all'amministrazione Persone quindi che hanno una esperienza a livello nazionale Per quanto riguarda la gestione degli eventi sportivi E quindi siamo molto contenti di questo percorso Perché ci dà la possibilità Oltre che vedere strutture come vengono giustite Anche di fare la scelta consapevole migliore Stiamo ragionando in questi giorni sulla localizzazione Ormai si può dire che le scelte sono ricadute su due aree Su cui ovviamente ci sarà anche un dibattito in maggioranza In consiglio comunale Una potrebbe essere Chiaruccia L'altra potrebbe essere vicino alla piscina Che sta costruendo la fondazione E quindi queste sono le due zone E stiamo anche cercando di capire la capienza di questa struttura Che non può fare ovviamente competizione con il Palace di Pesaro Il Vitrifrigo Palace Perché ovviamente ha un taglio, una dimensione enorme Che non ci va bene Noi qui si stiamo orientando verso principalmente tre discipline Che sono la pallavolo Che ha sempre dato grandi soddisfazioni a questa città La ginnastica e anche il calcio a 5 Dunque questi sono i tre sport in cui stiamo tarando la progettazione La capienza invece pensiamo di non superare ovviamente i 5.000 Perché sarebbe sproporzionato rispetto alle nostre esigenze Ma pensiamo anche a una struttura che oltre a fare sport Per i nostri concittadini, per le nostre società Ma anche per quelle di fuori Possa servire anche a organizzare degli eventi Bene, rimaniamo più o meno nei paraggi della nuova piscina Andiamo a Tre Ponti dove i residenti della zona Sono però sul piede di guerra per un traffico intenso Che da qualche settimana li sta attraversando Proprio in virtù dei lavori su via dell'aeroporto Sentiamo Strada comunale Tre Ponti sta sopportando una mole di traffico innaturale Per la sua conformazione e struttura Dovuta ai lavori in atto sulla strada dell'aeroporto Per la creazione delle nuove rotatorie Delle opere compensative per la 14 Una situazione questa che si è maggiormente accentuata Nei mesi scorsi Periodo in cui sono iniziati i lavori su via Papiria E che hanno fatto scattare negli utenti della strada L'insano fiuto per le scorciatoie E così strada comunale Tre Ponti È diventata il taglio preferito per mezzi pesanti e non Per andare verso la zona industriale di Bellocchi O verso l'imboccatura della superstrada Ma ora questo è diventato per chi vi risiede motivo di stress Ora sì, dopo tante insistenze Di recente è stata messa una segnaletica verticale Che di fatto impedisce il transito ai mezzi pesanti In questo budello di strada Ma ormai la consuetudine e l'automatismo In chi ha memorizzato questo trucchetto Sono più forti di un segnale stradale E con la conseguenza che nulla è cambiato quindi E che nelle ore di punta Tra scuolabus, genitori, gente che va al lavoro E traffico extra Qui sembra di essere sul grande raccordo anulare di Roma Abbiamo chiesto ai vigili di intervenire con una funzione di controllo Però ad oggi, malgrado anche una mail di sollecito Ancora non li abbiamo visti Non chiediamo niente di particolare Ecco che effettivamente venga qualcuno E faccia rispettare quello che è previsto dalla segnaletica Da quando sono iniziate le opere È centuplicato rispetto a prima Ma soprattutto non può permettersi nemmeno l'uso Il passaggio di camion Che poi sono di media e grande altezza Ora a questa che è una situazione contingente Si somma alla situazione più cronica Lo stato pietoso del fondo stradale Che chiamare asfalto è un insulto alle strade vere asfaltate Del vecchio manto ormai non rimane che ben poco E passare qui è come fare un pezzo della Parigi Dakar Anche se un pezzo di campo limitrofo È stato inglobato per mancanza di spazio Dalla sede utilizzata dai mezzi per transitare qui Il resto poi è un'infinita distesa di buche Presenti anche ben prima dei lavori della Pavimental Ora non resta che sperare che a lavori ultimati Il tutto venga ripristinato allo stato di eccellenza Ed ora parliamo di solidarietà Ventitresima edizione della giornata nazionale Della colletta alimentare Dove verranno coinvolte tutte le marche Sono ben 166 supermercati interessati Nella provincia di Pesaro e Urbino Da questa giornata di solidarietà Per chi è in difficoltà Vediamo Giunta la ventitresima edizione La giornata nazionale della colletta alimentare È diventata un importantissimo momento Di coinvolgimento e sensibilizzazione Della società civile Al problema della povertà Alimentare attraverso l'invito Un gesto concreto di gratuità e di condivisione Ovvero donare la spesa a chi è povero Durante questa giornata Presso una fittissima rete di 13.000 supermercati Aderenti su tutto il territorio nazionale Di cui 166 nella provincia di Pesaro e Urbino Si può donare parte della propria spesa Per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà L'iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare Si terrà sabato 30 novembre Dopo 30 anni Tutta l'attività della rete È resa possibile da oltre 1.800 volontari Oltre 5.000 nelle marche Tutto il materiale che verrà donato Sarà raccolto E nel giorno stesso portato al magazzino di Pesaro E al magazzino di San Benedetto Dove poi nei giorni successivi Verrà distribuito gratuitamente Ai nostri enti caritatevoli assistiti Che sono nelle marche 310 E arrivano a coprire un bisogno di 34.000 persone Circa 15.000 nella provincia di Pesaro e Urbino Gli alimenti consigliati sono quelli di cui necessitano Le strutture caritative a lunga conservazione Gli alimenti sono i soliti Quelli che possiamo conservare e stoccare Perché appunto la colletta ci serve Per accompagnare le strutture caritative Durante tutto l'anno Per cui pasta, pelati Tutti i prodotti scatola sono molto graditi La colletta alimentare per noi è un momento molto importante Perché va a rappresentare circa un 10% di tutto quello Che poi è il distribuito del Banco Alimentare Durante tutti i mesi dell'anno A Montecchio nel comune di Vallefoglia Fervono i preparativi per una manifestazione A chiaro tema autunnale E che si occupa di tartufo pregiato e olio nuovo Il servizio vi spiega tutto quello che verrà Si terrà a Montecchio nel comune di Vallefoglia Il 7, 8, 14 e 15 dicembre La mostra a mercato del tartufo pregiato e dell'olio nuovo Manifestazione completamente nuova Che presenta al suo interno alcune particolarità Tra cui il luogo scelto per allestire l'evento Nelle prime due giornate Il primo evento che riguarda il tartufo bianco e nero E l'olio extravergine Che noi terremo in via Piola Torre a Montecchio Cerchiamo di valorizzare sicuramente Il territorio del nostro comune Pensiamo che sia una cosa importante per il nostro paese E se avesse successo Una cosa importante per noi Perché potremmo vivacizzare il nostro territorio Il 14 e il 15 di dicembre Avremo anche noi Proprio noi solo della Proloco di Montecchio I mercatini di Natale Coinvolgendo tutti i bambini Delle elementari di tutta la città di Vallefoglia Quindi parecchi bambini che canteranno Durante i due fine settimana Ampio spazio sarà dato alla gastronomia tipica A base di tartufo Olio nuovo e specialità di stagione Il primo fine settimana avrà ospiti Il mago Andrew Magic Show E l'animazione della Pizzica Salentina Cura del gruppo La Musica dell'Anima Nel secondo fine settimana Molte attività saranno riservate ai bambini Con esibizioni del Centro Musica E delle scuole primarie Giovanni Paolo II E Federico da Montefeltro Troveranno poi posto la casetta di Babbo Natale Interessanti laboratori Stand con arti e mestieri Per rivivere la magia delle feste Il calore familiare di tutta la comunità Far diventare anche il turismo L'enogastronomia L'alimentazione di qualità Un pezzo del sistema economico e produttivo Per tornare quanto prima Alla piena occupazione Nel territorio della città di Vallefoglia Bene, e rimaniamo in tema natalizio Perché la vedrete girare Per mercatini e luoghi Dove ci saranno manifestazioni Legate a questo periodo Ma non solo È un'auto Un'auto speciale Logata con la Proloco L'UMPLI provinciale Che servirà proprio per la promozione Delle Proloco e dei territori È rossa, nuova E girerà le località della provincia Durante tutto il periodo natalizio E sarà a disposizione Della Proloco provinciale È senza dubbio L'auto della promozione territoriale Per eccellenza E scaturisce dall'unione di intenti Tra il mondo del volontariato Le Proloco appunto Ed un privato Una nota concessionaria di auto Della zona Molto legata alla matrice territoriale Locale L'auto con il logo Del Natale che non ti aspetti Girerà con a bordo I volontari della Proloco Seguendo un po' La stella cometa Dei tantissimi eventi Programmati in provincia Anche quest'anno Per dare al territorio Il massimo Dell'accoglienza turistica E della promozione Cercando di creare I presupposti Per un turismo Non più stagionale Ma diffuso In ogni segmento dell'anno Una grande macchina Nuova Fiammante Che sarà a disposizione Per il comitato provinciale Per girare tutto il territorio Per essere proprio vicini Sempre di più vicini Al territorio E vicini alle Proloco In questo caso Abbiamo allargato il giro Con il nostro presidente provinciale Naturalmente Questa macchina Questo gioiello Che girerà tutta la provincia Di Peserubile Una volontà Quella di essere legati Al territorio E sostenerlo In tutte le manifestazioni Ed iniziative Portate avanti Dalle Proloco Più volte manifestato In tante forme Da parte della concessionaria Che ha sempre saputo Con il suo apporto Dare il valore aggiunto Necessario Ad ogni iniziativa Si fa molto piacere Dare il nostro piccolo contributo Tramite quest'auto Al comitato provinciale Delle Proloco Con la Proloco di Fano Collaboriamo già da tanti anni Questa volta Abbiamo deciso Diciamo anche di Aiutare Tra virgolette Anche il comitato provinciale E lo facciamo Mettendo a disposizione Del presidente Di tutti i volontari Che ne avranno bisogno E questa splendida auto Bene E una delle città Dove il Natale Ha sempre rappresentato Un momento di grande festa Altamente spettacolare E Fossombrone Dove si stanno affilando Le armi Per il magico Natale Il servizio è di Filippo Pucci 250 lanterne Situate per tutto il centro 70.000 luci a LED 75 piante ad alto fusto 400 metri quadri di erba vera Ed un bellissimo albero di Natale Sono questi i numeri Dell'edizione 2019 Del magico Natale a Fossombrone In programma Dall'8 dicembre al 6 gennaio Lungo il corso Garibaldi Lo scenario che gli organizzatori Insieme ad Ultrasound Eventi Stanno realizzando Sarà sulla riga Dello scorso anno Ma con qualche novità in più A chi viene a Fossombrone Quest'anno speriamo che trovi Ancora più intenso L'emozione che ha trovato Anno scorso Che è semplicemente Un insieme Di sapori Strettamente legati Al Natale Che devono anche un po' Farci sentire un po' Più bambini Che in questo momento Credo che faccia bene a tutti E in qualche maniera Tutti insieme Cerchiamo anno dopo anno Di fare un allestimento Sempre più corposo Sempre più empatico Verso quelli che sono Queste sensazioni natalizie Abbiamo rinunciato Due anni fa A una scelta molto importante Che è ridurre fortemente Gli spettacoli Perché riteniamo Che gli spettacoli È stato molto bello Per alcuni anni farli Però non credo manco Che sia giusto Che sia una rincorsa Nel superarci ogni anno Nei spettacoli Sempre più Appariscenti Sempre più costosi E quindi cerchiamo Di fare una cosa Più omogenea Più armonica Investendo su quello Che anno per anno Deve diventare Sempre più magico Un'altra novità Sarà il Bosco Magico Quest'anno Diviso in due blocchi Il primo Situato all'ingresso Di Corso Garibaldi E l'altro Posizionato davanti al comune Anche la musica Accuratamente selezionata Regalerà emozioni In ogni punto del corso Rendendo piacevoli Le passeggiate Lungo i negozi Del centro storico Un evento Che vede lo sforzo Congiunto Mi piace ricordarlo Di amministrazione comunale Proloco Farum Semproni Associazione Commercianti e Ristoratori Che hanno sottoscritto E rinnovato Proprio oggi Un protocollo D'intesa Sulla base Di quello D'anno scorso Finalizzato A rendere Chiaramente Il più accogliente Possibile Il più magico Possibile Questo Natale Le associazioni In sede Commercianti Che dei ristoratori Sono pronte Che i ristoratori Andano in sorprese Parliamo di panettoni A scopo benefico Parliamo di licori Quindi li attendono I loro ristoranti Ricordiamo anche qui Che la scelta Ce n'è per tutti i gusti E per tutte le tasche Un occhio di riguardo Anche per i bambini Che passeggiando Sotto le magiche lanterne Troveranno Elfi Alberi parlanti E la casetta Di Babbo Natale Per i più grandi Invece Tantissime proposte commerciali Per lo shopping Natalizio Un'occasione Per cercare il regalo Da mettere sotto l'albero Tantissime sorprese Novità Anche in questa edizione 2019 Vi aspettiamo Quindi a Fossumbrune Domenica 8 dicembre Allora Siamo arrivati in fondo A questa edizione Di Occhio alla Notizia Non prima però Di ricordarvi Che avete un numero A disposizione Per entrare in contatto Con la nostra redazione Eccolo qua Oppure farci Le vostre segnalazioni Come avete visto Nel corso del Telegiornale Bene Dopo di noi A seguire Ci sarà una nuova puntata Di Guarda chi c'è E poi uno speciale Molto bello Dedicato alle donazioni In rosa Dell'Avis di Fano Questo è tutto Per questa sera Grazie per essere stati In nostra compagnia L'informazione torna Domani mattina Puntualmente alle 7 Con Occhio ai giornali Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.